L'Unione Europea ha raggiunto un accordo politico sull'AI Act. In attesa del testo definitivo e delle entrate in vigore, probabilmente tra due anni, quali sono le sue considerazioni? Un passo importante, almeno per fissare i principi guida nella governance dell'intelligenza artificiale. La speranza, naturalmente, è che si faccia in tempo, innanzitutto, a chiudere i lavori dell'Artificial Intelligence Act e che poi si riesca a passare in tempo dalla fase della proposizione alla fase dell'attuazione dell'Artificial Intelligence Act prima che sia troppo tardi, perché qui il rischio è, come sempre, che il mercato e i produttori di tecnologia fissino le loro regole prima che arrivino le regole fissate dai parlamenti e dai governi. Insomma, che la tecnologia si faccia regolamentazione è un rischio assolutamente da scondurare. Gli algoritmi di intelligenza artificiale sono estremamente efficaci, ma hanno anche delle vulnerabilità, quindi dei rischi di abuso, manipolazione, raccolta illecita dei dati. Come proteggere maggiormente i nostri dati personali nell'era dell'intelligenza artificiale? È probabilmente banale a dirsi, ma il mio unico suggerimento è sempre lo stesso. Cioè l'educazione è il vaccino migliore rispetto alle cose della tecnologia che vanno di corsa. Io non ho affatto paura dell'intelligenza artificiale, ma io sono oggettivamente terrorizzato dall'intelligenza artificiale nelle mani di persone che non ne conoscono le straordinarie potenzialità, come sono terrorizzato oggi da un monopattino elettrico nelle mani di chi non ne conosce lo spazio di frenata e lo spazio di accelerazione. Dobbiamo invertire la tendenza, dobbiamo iniziare a investire di più nell'educare le persone a conoscere gli algoritmi rispetto a quanto stiamo investendo nell'addestrare gli algoritmi a conoscere le persone.